Grazie ragazzi, vogliamo andare in un nuovo video, per vedere i cerri che sono lì sotto Stiamo cercando di spararvi da un bel po' Urlate urlate perché adesso qualcuno vuole lì là sotto, schiacterò Non posso vedere la carabina perchè vuole fare una serie di uccisioni Però da forse lo posso accettare, se per questa volta Non vedo niente Bisogno di scalzarmi e andarci così Ecco qua Che ragazzi è ferito, ci vediamo dopo Allora il cervo da noi è abbattuto E' stato ritrovato Comunque per lo stomaco 142 kg e 88 metri Quindi ragazzi per oggi è tutto E ci vediamo in un nuovo video, mi raccomando iscrivetevi, vi mette i like e condividete